Maradona è un patrimonio di tutti, quindi va tutelato e difeso. Una statuetta di Diego Armando Maradona e un calco a dimensione naturale del suo celebre piede sinistro sono le opere commissionate da Stefano Ceci, amico del calciatore, e donate al sindaco di Napoli Manfredi e al presidente della società di calcio dell'Aurentis. Nel corso della cerimonia è stato annunciato il progetto di realizzare un monumento raffigurante il piede del campione argentino. Si è deciso con il sindaco di intitolare una piazza a Diego Armando Maradona posizionandoci questa meravigliosa statua che ha fatto progettare l'amico di sempre di Diego Stefano Ceci e che avrà una dimensione molto grossa, questo piede sinistro che ha reso Diego il giocatore più importante del mondo mai visto e campeggerà per una lunghezza di 9 metri, un'altezza di 5 metri più un piedistallo in mezzo ad una piazza simbolo di un riscatto che chiunque può ambire ad avere nella vita. Io ho proposto di mettere la scampia perché credo che Maradona rappresenti un po' il simbolo del riscatto di un uomo che è riuscito con il suo talento ad arrivare al vertice del mondo, del mondo del calcio. Quindi noi ci auguriamo, il lavoro che noi facciamo è che anche i quartieri più difficili della città possono percorrere questa strada e quindi lavoreremo insieme per trovare una collocazione degna di questa statua, di questo piede di Maradona.